Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sul canale di Aurore Maria Pia. Ciao a tutti ragazzi, fiocchettini, anzi è fiocchettine. Bentornati in questo nostro nuovo video. Oggi è un giorno speciale perché stiamo per preparare i biscotti di Natale. Eh sì, guardate tutte le formine. Guardate le formine come sono carine. C'è anche il cristallo. Il cristallo di neve. Mi raccomando ragazzi, oggi le mie piccoline saranno delle pasticcere perché saranno loro ragazzi a preparare i biscotti. Faranno tutto loro. Auri, stai calma. Ok, allora ragazzi, per fare questi biscotti al burro ci servono la farina, il burro, le uova, lo zucchero e un po' di bustina per dolci, di lievito per dolci. Ho aggiunto anche un pizzico di sale nella farina. Avremmo dovuto mettere anche la vaniglia e la vanillina, ma non l'abbiamo ragazzi, non fateci caso. Non lo usiamo, tanto vengono buoni e profumati lo stesso. Ok, fiuccia, vai, versa la farina. Tutta. Tutta nel contenitore. E dopo da quando dobbiamo mettere l'uovo? Lo zucchero. Lo zucchero. Vai. Sì. Il burro. Aiutatevi con la palettina, non con le mani. No, 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 è sciolto. Eh, brava. Piano piano, attenzione. È caduto uno sul tavolo. Beh, prendilo e metterlo nella ciotola, eh. Fatelo andare bene bene tutto dentro perché ci serve la giusta dose. È attaccato, ragazzi. Sì, è attaccato. Aspettate l'altro uovo. Ragazzi, vi ho aiutato prima a mettere l'altro uovo e abbiamo aggiunto già la bustina. Dai. Che schifo, Maria, tu fai troppo schifo. Dai, ma non è vero, è un uovo. Vai, figlia, fanno cadere, mettilo verso sotto. Ecco, brava. Ok, aspetta che ti prendo un tavagliolo. Ok, ragazzi, ora vi serve olio di gomito. Nel senso, bisogna fare molta fatica perché dovete impastare con la paletta, prima con la paletta e dopo con le mani tutto l'impasto. Forza! Aiuto, chissà cosa ne uscirà, ragazzi. Ne sono terrorizzata. Wow. Dai, dai, forza, forza. Dovete impastare perché si deve sciogliere il burro. Cosa dobbiamo fare con le mani? Siete allora? Perché, ragazzi? Stiamo facendo questi biscotti perché... Ai mercatini! La scuola delle bambine sta organizzando i mercatini di Natale. Dobbiamo andare mercoledì pomeriggio nei mercatini in piazza e quindi ognuno sta portando dei dolcetti che li doniamo e poi li vendiamo. Cioè, la scuola li vende ma siamo noi genitori, ogni genitore porta qualcosa. E noi abbiamo deciso di fare questi biscotti al burro di Natale con tutte le formine. E nulla, ci aspetterà una giornata bellissima mercoledì e poi si concluderà in bellezza. E quindi dobbiamo fare tanti, tanti biscotti. Forza, forza! Non puoi fare le mani? No, ancora con la palettina, poi vi dico io, dai. E beh, fra poco dovrete farlo con le mani, sì, vi tocca. Non ti vuoi sforcare le mani? Non ti vuoi sforcare le mani? Ragazzi, Maria Pia stai massaggiando l'impasto? Ah, io l'ho assaggiato, io l'ho assaggiato. È buonissima, ragazzi. Un altro poco? No. Ok, dai! Con le mani! Vai! Forza! Oh, come rilassi così! È squiscioso? Sì! Rilassi! Eh, basta, dai! Sennò se lo mangiamo tutto cosa portiamo poi ai mercatini? Così? Sì, impastate, impastate! Forza, forza! Datevi da fare! E poi, ragazzi, dobbiamo far riposare l'impasto nel frigo. Allora, vi dico la ricetta, ragazzi. Abbiamo usato 400 grammi di farina, 200 grammi di zucchero, 200 grammi di burro, un pizzico di sale, un cucchiaino di lievito per dolci e due uova medie. E questo è il nostro impasto. Ok, però, dovete, deve essere bello impastato, non deve essere una sbriciolata. Cosa dite? Vi aiuto? Dai! Dai, impastate, impastate! Così, così! Ok, dai, ragazzi, mi sa che le aiuto un po', va? Sì, vi faccio vedere come si fa dopo lo fate voi. Ecco qua, ragazzi, i panetti sono pronti. Adesso, bimbe, deve riposare l'impasto un po' in frigo. Allora, io questo ho fatto con il macello. Va bene. E tra un po' daremo... Ognuno è questo. E tra un po', ragazze, ci divertiremo un sacco ad usare tutte le nostre formine. Eccole qua. Ok, bimbe, dai, mettiamo l'impasto in frigo e poi... Sembra un topo! Un topo? Sì, sembra topolino. Ok, ragazzi, a fra poco. Ecco qua, ragazzi, abbiamo tolto l'impasto dal frigo. Adesso lo dobbiamo tagliare in piccole parti. Lo dovete stendere col mattarello. E poi fate con le formine, andate a fare a dare forma. Aspettate uno per volta. Adesso dovete stenderlo col mattarello. Pia, dai, cerca di dare una forma per meglio, una forma migliore. E io? Brava, Auri. Devi stendere col mattarellino. Qua. Ok. Iniziamo a vedere come vengono. Ok, faccio prima la formina. Fai una prova, sì, con l'albero di Natale. Vai, con tutta la forza che c'hai, mamma. Ok. Ah, che carino. Troppo spesso, eh, però. Va bene, dai. Ok, non mettiamo da parte. Vai, Pia. Metti un po' di farina. Dove? E stendi sull'impasto. Poco, poco. Vai. E poi stendi col mattarello. Anche tu dovete stendere di nuovo col mattarello. Perfetto, bravo. Continuate così. Vai, fai tanti pezzi. Gli sono alberi? Sì, vai. Questo è difficile da usare. Non l'hai saputo usare, visto? Fenn, ma no, 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 no. Aspetta, aspetta. Allora, Aurora, non si fa aiutare, ragazzi. È un po' cocciuta. Aurora, aspetta. Ok. Forza. Poi puoi usare pure la campana. Faccio una pallona e le faccio l'impasto. Aiuto. Ok. Lasciali qui. No, non riconosco il mio. Ma non fa nulla che non riconosci il tuo. Dai, poi li dobbiamo mettere nella terra. Ed ecco, ragazzi, che è pronta la prima teglia. Ed è pronta per andare in forno. Guardate come sono carini. Guardate. Ok. Questa è la prima teglia. Eccoci qua all'opera. Qui sono pronti gli altri. Adesso sta per uscire la prima teglia. Ed eccola lei che sta solo pasticciando. Dai, forza che resta tutto questo panetto da fare. Dobbiamo fare tanti biscottini. Ok, ci sta entrando anche nanna Rita. Ok. Ehi là. Piccole birbantelle all'opera. Eh, ma lo devi stendere bene l'impasto. Dai. Forza. E qua, ragazzi, i primi biscottini pronti. Adesso li tolgo dalla teglia e poi mettiamo gli altri e subito in forno. Come sono carini. Ma che combini? Ti sei stancata di fare biscottini? Sono bellissima. Guardate come si è combinata. Non vuoi fare più biscottini, brutta manella? Si è stancata la birbantella. Via invece de morde. Non de morde. Continua. Brava, amore. Brava. No, no, perché mi sono stancata. Stiamo facendo gli altri per la terza informata. Ecco, un segreto quando dovete fare una panina. Quando voi schiacciate, invece di cacciare e fate così, già se ne cacciano. Oh, brava. Ed eccoli, guardate come sono carini in forno, come cuociono. Ma comunque sono buoni, eh. Li ho assaggiati. Sono state veramente brave queste due fanciulle. Allora, ragazzi, i nostri biscottini al burro sono pronti. Guardate che carini. Fatti da Aurora Maria Pia con l'aiuto di nanna Rita. Mamma mia. E un altro biscottino. Un altro biscottino che sei tu, il mio biscottino. Il mio biscottino. Sdentato. Biscottino sdentato. Ciao, ciao. È nulla, ragazzi. Sono buoni? Li hai assaggiati? Non, non sono. Adesso basta perché li dobbiamo portare ai mercatini. Altrimenti non bastano. Beh. No, si devono raffreddare più, se no fanno condensa. È nulla, ragazzi. Ragazzi, il nostro pomeriggio all'insegna dei dolciumi è finito. Sono, eh sì, i biscotti sono dei dolci, dolciumi si dice. Sono molto soddisfatta del risultato. Poi mercoledì, ragazzi, faremo il video, il vlog. Vi porteremo con noi i mercatini di Natale. Non vedo l'ora. È nulla. Allora, siete contente? Sono state bravissime. Sono state molto, molto brave, devo dire. Sono molto contenta. È nulla, ragazzi. Questo video finisce qui. Noi vi saldiamo. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando, ragazzi, continuate ad iscrivervi. Dobbiamo arrivare a mille iscritti. Passente. Vi mandiamo tantissimi baci e come sempre ci vediamo... Vi mandiamo tantissimi baci e come sempre ci vediamo... Ciao! Ciao!